Il Brescia vince in casa contro l'Empoli, sblocca la partita al diciottesimo su calcio di rigore, conquistato e trasformato dal brasiliano Gionatas. 1-0 per il Brescia dopo 19 minuti, la squadra di scienza gioca bene, gioca un grande calcio e trova anche il gol del 2-0. Straripante azione di Juan Antonio, gol facile facile per Robert Fetchesin, gol del 2-0 all'ottavo della ripresa. Poi l'Empoli trova il gol che riaccende la speranza e lo trova con Ciccio Tavano a 5 dalla fine, ma non basta, vince il Brescia 2-1. Grazie.